Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Anche durante il lockdown la Fondazione Tercas si è dedicata a progetti indirizzati alle persone con disabilità. Ora insieme al Genius L'Oce, associazione che opera nella Valle Siciliana, ha creato dei laboratori per ragazzi e adulti all'interno della scuola di Colledara. Una possibilità che la Fondazione Tercas dà per sottolineare l'inclusione, dando la possibilità a chiunque di partecipare alla vita attiva della comunità di riferimento. Negare la possibilità di includere queste persone, voglio dire negare il diritto alla cittadinanza attiva e piena. Dobbiamo un po' abbandonare una visione che ci suggerisce che i soggetti con disabilità siano persone fragili che noi filantropicamente andiamo ad assistere. Sono persone che hanno abilità diverse, come può capitare anche a noi in una fase della nostra vita, che possiamo perdere alcune abilità e acquisirne altre. E quindi soggetti che hanno qualcosa di diverso da dare alla società, ma hanno da dare. Così come noi stessi siamo tutti diversi, ognuno di noi ha un patrimonio di competenze e capacità diverso da quello degli altri. Ecco, quindi comprendere come una comunità non può essere tale se non riesce ad includere pienamente tutti e se non si fa carico della responsabilità appunto di assicurare una cittadinanza attiva a tutti. L'associazione Genius Loci ha sottolineato l'importanza del progetto per l'area montana della Valle Siciliana, che permetterà alle famiglie di ricevere un servizio di supporto e alle persone disabili di socialità. Questo è un compendio di un progetto già più ampio che facciamo già sul territorio e si tratta di avere in sede a Colledara, nella sede che c'è in via Mameli, 15 ragazzi dai 17 ai 55 anni con disabilità fisiche o psichiche e una volta a settimana il venerdì dalle 15 alle 19 con degli insegnanti di varie tematiche, tematiche musica, pittura, teatro e un professore di ginnastica per la mobilità.